Attenzione, questo progetto è altamente pericoloso, insisto perché lo replichiate solamente se avete l'esperienza per farlo. Nel caso non foste esperti in questo campo, godetevi il video solo come intrattenimento, ma non imitatemi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video si prosegue la mia lista di video sul fai da te. Infatti, oggi voglio spiegarvi come costruire un piccolo motore a pulso oggetto fatto in casa. Cominciamo subito. La prima cosa che dovremo procurarci sarà un contenitore in acciaio, meglio acciaio inox, ma non c'è tanta differenza. Ci servirà soltanto questo, in quanto noi naturalmente dovrà essere propisto di tappo, estraibile ovviamente, e questo lo è. Aspettate un secondo, ecco. Eccolo qui. Come vedete qui c'è il tappo. Quello che dovremo fare sarà molto semplice. Ecco, come vedete qui è già usurato perché ho già effettuato un piccolo test. E quello che dovrete fare è molto semplice. Dovrete prendere il tappo e fare esattamente al centro, come ho fatto io, come vedete qua. Scusate perché il buco è un po' fatto male, in quanto io non ho un trapano. Quello che ho fatto io è prendere un cacciavite, bucarlo con il martello e il cacciavite, appunto, e poi allargarlo con altri accessori. In ogni caso il risultato non è poi così penoso. Niente, quello che dovrete fare è effettuare un foro sul tappo, appunto, esattamente al centro, di circa un centimetro o poco meno. Sarebbe meglio se voi riusciste a realizzare una sorta di tappo, insomma, di chiusura regolabile per il foro. Così da poter regolare l'entrata dell'aria e l'uscita dei gas di scarico, insomma. Niente, insomma, questo è un breve video su come spiegarvi come costruire un piccolo motore a pulso oggetto. In seguito vi mostrerò, in pratica, qualche video di test, diciamo, di questo motore. Per il momento vi dico semplicemente che per farlo funzionare, oltre ad avere il buco, sarà necessario semplicemente un cucchiaio di alcol. Anche alcol normale lo potete trovare ovunque, andrebbe benissimo. Anche la benzina da modellismo va bene anche quella. Niente, come vedete qui vi ho già detto che ho già fatto un piccolo test. E devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto, perché funziona e anche bene. Raggiunge una temperatura veramente elevatissima, in quanto appunto è il metallo, e il metallo trasmette benissimo il calore. Bene. Ma vediamo di capire come funziona un motore a pulso oggetto. È semplicissimo. In pratica è il motore, è il tipo di motore più semplice di motore a reazione, possiamo dire. In pratica, quando noi andiamo a mettere il combustibile all'interno, chiudiamo, tappiamo il buco centrale e semplicemente scuotiamo di modo che si diffonda ovunque. Questo andrà a creare dei vapori, naturalmente. Se usiamo benzina, bisogna stare piuttosto attenti. Per questo consiglio di usare alcol o benzina da modellismo, che sono meno pericolosi. A parte l'alcol, che chiaramente anche quello non scherza. In pratica il principio è molto semplice. Se noi mettiamo una fiamma su questo foro, i vapori prenderanno immediatamente fuoco. Tuttavia, questi gas che si formeranno si esauriranno quasi subito. Quello che accadrà all'interno è molto semplice. Per via del calore, che si forma con il primo scoppio, per così dire, si forma dell'altro vapore. E a sua volta viene incendiato, anche questo vapore di combustibile, viene incendiato dai gas incandescenti della deflagrazione precedente. E questo in pratica viene a produrre un effetto a catena, per così dire. Per questo si sente il tipico rumore di un sacco di scoppietti uno dietro l'altro. Come una specie di motore a scoppio, anche se in realtà non è un motore a scoppio. Però, se volete definirlo così, fatelo pure, in quanto fa degli scoppi. Niente, in pratica vi ho detto che chiaramente con l'uscita del vapore entrano sia aria, in pratica sia l'aria che entra, sia il vapore che si forma, formano questa miscela che poi viene incendiata appunto dai gas incandescenti che sono già presenti. Quindi, e niente, viene espulso altro vapore, entra altra aria, si forma altro vapore e questo è un procedimento che si ripete in continuazione. Bene, con questo il video si conclude. Io vi ringrazio per la visione, vi metterò presto il prima possibile dei video sul funzionamento, in pratica dei test. Una cosa importante, se volete provarci, che tanto il procedimento ve l'ho spiegato, dovete mettere semplicemente un cucchiaio di alcol all'interno, tappare il foro, scuotere in questo modo, così che si diffonde, poi mettere una fiamma qui, si accenderà. Una cosa importantissima è mettere il barattolo che utilizzerete per il motore all'interno di una teglia o qualcosa di simile riempita di acqua, di modo che ci sia sempre un raffreddamento continuo. L'acqua in pratica dovrà arrivare più o meno a mezzo centimetro o un centimetro, se volete stare più sul sicuro. Se utilizzate barattoli di vetro, chiaramente è obbligatorio usare acqua alla base, perché altrimenti dopo pochi secondi il barattolo esploderebbe. Chiaramente il vetro lo sappiamo bene. Bene, insomma, con questo il video si conclude. Io vi ringrazio per la visione, spero di essere stato preciso. Se ho sbagliato qualcosa, fatemelo notare nei commenti che magari mi correggerò in futuro. Perché non si sa mai, dai. E niente, a questo punto ci risentiamo ai prossimi video. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.